bastano pochi elementi per creare veri angoli di paradiso nel cuore di casa creare e come comporre una sinfonia occorrono gusto senso dell'equilibrio e dell'armonia tonalità neutre per ambienti chic sfumature pastellate che rendono romantico ogni dettaglio l'eleganza del piccio il vetro e le ceramiche made in Sicily si fondono insieme in un abbinamento inconsueto ma di grande effetto arredi biancheria per la casa articoli da regalo partecipazioni lista nozze e cadeau per gli eventi più importanti della vostra vita l'eleganza del piccio il vetro e le ceramiche made in Sicily si fondono insieme in un abbinamento l'eleganza del piccio il vetro e le ceramiche made in Sicily si fondono insieme in un abbinamento ricevere in casa propria è sempre un piacere ma lo è ancora di più se possiamo accogliere i nostri ospiti in un clima elegante e ricercato lasciati ispirare dai consigli di Pina Biglitz